Tiziana Cattani, sono direttrice del settore socio e consumatori di Copp Liguria. È il settore che in Copp si occupa delle attività sociali e in questo caso specifico anche di una serie di azioni come oggi quella della lotta allo spreco, con il quale siamo presenti con il nostro progetto Buonfine. Il progetto Buonfine nasce a livello nazionale e abbiamo in questo contesto molti anni di esperienza. A Genova, nello specifico, nasce nel 2006 una proposta all'interno del tavolo del piano regolatore sociale a cui Copp ha aderito subito con entusiasmo. Si trattava praticamente di donare le eccedenze che all'epoca erano molto di più di oggi e evitare che queste venissero conferite nell'ambito dell'ambiente disperso e quindi nell'ambito all'epoca anche questa cultura della raccolta differenziata era molto meno presente e soprattutto merci che ancora buone ma non belle da mettere a scaffale. Stiamo parlando di prodotti con etichette strappate, etichette macchiate, cioè prodotti che Copp non poteva più mettere negli scaffali, quindi non potevano essere più venduti ma che erano buoni perché sia le caratteristiche organolettiche del prodotto sia proprio il prodotto in sé era ancora un prodotto di qualità con tutte le sue garanzie di sicurezza. Aveva solo il vestito strappato o macchiato e abbiamo pensato che non potevamo buttare, continuare a buttare cospicue quantità di cibo nella spazzatura. Questo era un progetto nazionale, ce lo siamo presi in carico anche in Liguria. Infatti il nostro progetto Buonfine ad oggi, ho detto abbiamo iniziato nel 2006, ad oggi abbiamo con l'anno 2022 raccolto e donato alle associazioni che si occupano di contrasto alla povertà un valore all'acquisto di 1.046.000 euro, questo per quanto riguarda un dato del 2022. Ma perché? Perché di Ecio c'è tutta una serie di azioni. Innanzitutto c'è la lotta allo spreco prima che si arrivi al punto vendita, perché anche gli ordini vengono fatti con dei sistemi che garantiscono quasi lo zero errore, nel senso che prima i colleghi a punto vendita ordinavano le merci e questo poteva generare con qualsiasi, anche solo situazione climatica avversa, una vendita o meno di una promozione. Questa cosa è stata superata perché con il nostro piano di ordine assistito sono state quindi introdotte anche da questo punto di vista innovazioni importanti da un punto di vista tecnologico. Si può proprio dire come la tecnologia può aiutare a migliorare complessivamente anche la situazione sia di chi lavora ma anche direi in generale per la società. Il progetto Bonfine quindi conferisce quei prodotti che non possono essere più messi a scaffale o quelli vicino alla scadenza, perché dalla legge del Buon Samaritano c'è stata poi la possibilità che è stata offerta dalla legge Gadda, quindi prodotti che hanno la loro etichetta, quindi sono assolutamente sicuri per il consumatore finale. Che Copp trasferisce alle associazioni con le quali ha fatto dei protocolli, nel caso di Genova abbiamo associazioni singole ma prevalentemente lavoriamo con la rete Ricibo che è la rete con la quale si sono organizzate più associazioni per consentire la donazione.